La rigenerazione urbana può essere un percorso che lascia il segno nell'ideazione dei centri cittadini che possono e devono essere motore mobile sotto il profilo economico e sociale. Da questi presupposti sono partite le attività della Commissione per la Rigenerazione Urbana della Camera di Commercio di Sassari, che nel susseguirsi di interlocuzioni nei giorni scorsi a Olbia ha organizzato un incontro interessante per lanciare la visione e condividere il percorso con i soggetti attivi del territorio. L'idea è quella di concertare un reale sviluppo economico e combattere la sempre maggiore desertificazione commerciale e dei servizi. Un'azione introdotta dal Presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, che nel Nord Sardegna coinvolge i centri maggiori, ovvero Sassari e Olbia, che passi da una sempre migliore ed integrata mobilità urbana ed extraurbana, la possibilità di individuare una sempre costante e crescente disponibilità di abitazioni a prezzi accessibili. Un percorso virtuoso che andrebbe ad inserirsi nei piani di programmazione 2021-2027, dedicati allo sviluppo urbano sostenibile. Della Commissione Rigenerazione Urbana Camerale fanno parte Paolo Murenu, in qualità di Presidente Benedetto Fois, Pier Giuseppe Canu, Giussi Mura, Ernesto Usai e Alessandro Cossu. Tutti hanno sostenuto un approccio fondato sulle aree funzionali che risolverebbero alcuni problemi, come limitare l'espansione urbana tramite la condivisione e il coordinamento di piani di sviluppo territoriale e favorire la connessione tra aree urbane e rurali e l'accessibilità, oltre a migliorare l'orientamento di alcune categorie di investimenti, come le infrastrutture commerciali, la qualità e la disponibilità di servizi pubblici, mobilità, capacità amministrativa. In questo ambito, un'azione concertata consentirebbe di fornire servizi integrati più efficienti e di migliore qualità, come ad esempio la gestione congiunta delle scuole e l'integrazione dei trasporti pubblici.